Durum with Biodiversity 2015 Durum with Biodiversity Utilizzi vari che caratterizzano tanti piccoli territori della nostra isola E sono veramente una ricchezza che va perseguita, valorizzata e mai perduta come invece era avvenuto circa 50 anni fa In cui queste varietà si erano quasi totalmente perse dalla coltivazione Alla giornata dimostrativa di visita diretta sui campi hanno diritto i rappresentanti di Slow Food Sicilia Che nel valorizzare le potenzialità offerte dalla stazione di granicoltura di Caltagirone Hanno invocato l'impegno della regione affinché garantisca l'azione svolta dai ricercatori E tuteli questo inestimabile patrimonio Francesco Cancellieri responsabile ambiente e biodiversità di Slow Food Sicilia Non potevamo non essere presenti alla giornata di campagna promossa dalla stazione sperimentale consortia di granicoltura Che è uno dei fiori all'occhiello delle nostre strutture regionali E che bisogna potenziare, difendere, proteggere e coccolare come uno dei beni più preziosi della nostra terra Quello che noi vediamo qui, quello che c'è nella base operativa scientifica nel borgo di Santo Pietro E' una vera eccellenza della nostra regione I funzionari, il direttore Venora in testa e tutto il team che ruota intorno al direttore Venora Tutto il lavoro fatto in questi campi sperimentali meravigliosi Sono la vera ricchezza della nostra terra Un ultimo aspetto da portare in evidenza E semmai l'attività svolta dai ricercatori scientifici Che con il loro impegno garantiscono la conservazione della banca del germoplasma Di oltre 200 varietà fra frumenti e leguminose da granella Oscar Grillo, ricercatore precario La stazione di granicoltura ci occupiamo oltre che di sperimentazione in campo Di controllo delle produzioni sia dal punto di vista chimico, tecnologico Sia di ricerca applicata e innovativa rispetto al normale Vi riferisco all'analisi d'immagine che già da un ventennio quasi La applichiamo nei laboratori della stazione La banca del germoplasma conserva circa 200 accessioni Tra frumenti e leguminose da granella Che si usano in ritrotazione con i frumenti